Letture di oggi, domenica 6 dicembre. Prima lettura, dal libro del profeta Esaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribulazione è compiuta. La sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida, nel deserto preparate la via al Signore. Spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia inalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasforma in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annuncia le città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio. Seconda lettura Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo Una cosa, fratelli, non dovete perdere di vista. Davanti al Signore un solo giorno è come mille anni, e mille anni sono come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro, e allora i cieli spariranno in un grande boato. Gli elementi consumati dal calore si dissolveranno, e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, Quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nei quali i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi fate di tutto, perché Dio vi trova in pace, senza colpa e senza macchia. Dal Vangelo secondo Matteo Cristo, figlio di Dio, come sta scritto nel libro del profeta Esaio, ecco, dinanzi a te, io mando il mio messaggero. Io preparerò la tua vita, voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, e raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto, e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miene selvatico, e proclamava, Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Parola del Signore Dalla prima lettura, il messaggio che ci giunge è che la vera consolazione è giunta. Basta nascondersi, ora gridiamo dai tetti, dai balconi, dalle terrazze delle nostre case, dalle montagne più alte che sta per nascere il Signore della vita e della storia. Nella lettura odierna, l'atteggiamento reciproco, lasciarsi consolare da Dio e donare consolazione in nome di Dio, deve diventare un imperativo per noi da ripetere allo sfinimento. Consolate, consolate. Ancora una volta, il testo sacro ci ricorda l'assoluta insufficienza delle belle idee se rimangono abbandonate a se stesse. C'è bisogno da parte nostra di concretezza, di patire, di soffrire e di sentire la gravità della nostra situazione, soprattutto spirituale. Per poter ricevere quell'annuncio che non tocchi solo il cervello, ma penetri dritto al nostro cuore, come una freccia. La nostra vita è sicuramente e quasi inevitabilmente traballante, tra alti e bassi, tra gioie e dolori, delle faticose salite e, ogni tanto, qualche travolgente discesa. Ma proprio oggi, nel momento in cui stiamo leggendo insieme questa frase, siamo chiamati a preparare la via al Signore della nostra vita. A preparare e iniziare questo cammino di rinnovamento, che parta dalle nostre anime, dai nostri cuori. Ma quando sarà questa, sarà colma di gioia, dovrà traboccare nell'annuncio e nella testimonianza. Nella seconda lettera, pensiamoci, viene detto inoltre che la Terra, con tutte le sue opere, un giorno sarà distrutta, e allora si delinea quindi la differenza tra la Terra e l'umanità, perché nell'ambito della Terra, San Pietro intende tutto quello che non è eterno. Pensiamo, pensiamo alla concretezza delle nostre esistenze. Quante arrabbiature inutili proviamo, quante corse a successo, all'ultima moda, per poi trovarci in rimorsi nei quali ci arravelliamo, e non facciamo nulla per sconfiggerli. La superficialità, il tempo sprecato e non trascorso con le persone che magari più amiamo. Quello che rimane è l'autentica umanità divinità di ogni istante che Gesù, Dio fatto uomo, ci permette. Il nucleo rivente di quello che ci rimane è la fede, è la speranza, è la carità che tutti noi dobbiamo esercitare. Diamo già con prova che apparteniamo al giorno, siamo sobri, vestiti solo della corazza della fede e della carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza. Oggi il Vangelo inizia così. Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ecco, semplicemente la buona notizia annunziata da Marco. È un principio che ci richiama alla creazione del mondo e al tempo stesso ci suggerisce una novità di spessore talmente grande che diventa impossibile per tutti noi misurarlo. Si autodefinisce come un Vangelo, una buona notizia, grazie alla quale il mondo non è più lo stesso. Infatti il Gesù che le persone a cui scrive Marco possono aver conosciuto o di cui hanno sentito parlare dai diretti testimoni è veramente il Figlio di Dio. Di questo si discuterà tanto, soprattutto all'inizio della Chiesa, perché se il Gesù terreno non è assolutamente separabile del Gesù Cristo, Figlio di Dio, allora tutta l'umanità viene accolta con Lui e grazie a Lui nel seno del Padre. E vivere divinamente non è più una tentazione suggerita dal serpente malaugurato, ma deve essere la vera vocazione di ogni uomo e di ogni donna. È necessario che preparate la via del Signore, che raddrizzate i Suoi sentieri, e poi pensate che Gesù chiede a ognuno di noi personalmente, mi vuoi accogliere? E noi, fino a quando non avremo una risposta a questa domanda, avremo ben poco senso nell'agitarci e nel metterci a preparare luminare e presepe. Basterebbe da parte nostra una semplice risposta. Questa, sì, io ti voglio accogliere, Gesù, per poterlo vedere all'opera a ridare vita. Esercitiamoci in questo giorno, sull'esempio di Gesù, a non dare per scontati i giorni che viviamo, fratelli e sorelle. Cerchiamo di guardare con occhi nuovi la nostra quotidianità a partire da oggi. E sull'esempio di Maria, cerchiamo di pregarla perché ci insegni a fidarci un po' di più dell'azione dello Spirito Santo. Per oggi vi saluto, vi auguro una serena serata e che il Signore vi benedica sempre. A domani.